Un fasto incendio si è sviluppato nel Vittoriese oggi pomeriggio ai danni di un'azienda che si occupa della lavorazione di Forto Frutta. Intervenute due squadre di vigili del fuoco da Vittoria e da Ragusa con tre autobotti. La DIA di Messina, supportata dal centro operativo di Catania, ha sequestrato beni di circa 4 milioni di euro a un noto imprenditore di Sant'Agata di Militello. Secondo gli inquirenti, l'uomo è ritenuto vicino alla famiglia di Mistretta. Spazzature ed erbacce incolte fanno da padrone alle ariole di Piazza del Popolo, nei pressi della stazione ferroviaria di Ragusa, a denunciarne lo stato di degrado e il movimento territorio. Dopo le segnalazioni dei residenti di Scicli sullo stato disastroso di alcune strade e sulla presenza di blatte, arriva la risposta dell'assessore Lino Carpino con delega alla manutenzione al comune di Scicli. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG. Come avete sentito dalle anticipazioni, un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi ai danni di un'azienda che si occupa della lavorazione di ortofrutta nel Vittoriese. La polizia locale sta indagando per capire le cause che hanno scatenato le fiamme. Al momento non si conoscono i danni alla struttura. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Ragusa e di Vittoria con tre autobotti. E di natura accidentale l'incendio che ha parzialmente distrutto un capannone di un'azienda che si occupa della lavorazione di ortofrutta incontrata a Serra Rovetto a Vittoria. Un incendio che è indivampato alle 17 circa di oggi pomeriggio, orario in cui è arrivata la segnalazione al centralino dei pompieri. Sul posto immediatamente una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, una del distaccamento di Vittoria e tre autobotti. Le operazioni di spegnimento sono state difficili anche per la coltre di fumo nero che si è sprigionata e ha reso anche l'aria irrespirabile. Ma il lavoro eccellente dei vigili del fuoco ha fatto in modo che le fiamme venissero spente dopo circa un paio d'ore. All'interno del capannone, quando è scoppiato l'incendio, vi erano i dipendenti che stavano lavorando oltre ai proprietari dell'azienda. Per cause da accertare dunque le fiamme hanno iniziato a propagarsi anche a causa del vento. Le persone che erano presenti infatti non sono riusciti a spegnere l'incendio che nel giro di pochi minuti ha divorato una parte del capannone. La struttura è assicurata, fa sapere la polizia, ad andare distrutta parecchia merce oltre alle cassette di plastica. Le indagini sono condotte dalla polizia del commissariato di Vittoria diretto da Rosario Amaru, che si è recato sul posto. Per fortuna non ci sono feriti. Un sequestro di quasi 4 milioni di euro è stato eseguito dalla DIA di Messina in concerto con quella di Catania. Il sequestro ha colpito il patrimonio di un noto imprenditore vicino alla famiglia mafiosa dei Mistretta. In gente il sequestro di beni è effettuato questa mattina a Sant'Agata di Militello nel Messinese a un noto imprenditore, Antonino Smiriglia. Una vera e propria stangata alla patrimonio è inflitta stamattina dalla direzione investigativa antimafia di Messina con la collaborazione del centro operativo di Catania. Si tratta appunto di un messinese che secondo le accuse è ritenuto vicinissimo alla famiglia di Mistretta e che opera con le sue imprese del settore del movimento terra e della produzione di calcestruzzo. Nello specifico l'impresa destinataria al provvedimento è la Smiriglia Calcestruzzi con sede nel località Rosmarino in territorio ricadente del comune di San Marco d'Alunzio. A far spiccare il decreto di sequestro del valore di 4 milioni di euro è stato il Tribunale di Messina su proposta del direttore della DIA Nunzio Antonio Ferla. Esponente di vertice della famiglia mafiosa di Mistretta è ormai deceduto Rampulla Sebastiano rappresentante di Cosa Nostra per l'intera provincia di Messina e fratello di Pietro, quest'ultimo condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta, poiché è ritenuto l'artificiere della strage di Capaci. Smiriglia Antonino, pur essendo destinatario nel tempo di svariate investigazioni giudiziarie di competenze di più distretti giudiziari, non ha mai subito provvedimenti di condanna per reati associativi o connessi agli ambienti della criminalità organizzata. Grazie a questi legami Smiriglia avrebbe ottenuto attraverso le sue imprese commesse pubbliche i cui introite avrebbero in parte rimpinguato le tasche di Cosa Nostra. È stato documentato come l'imprenditore sia stato sempre vicino ai contesti criminali associativi, partecipando anche direttamente al summit mafiosi. 400 mila euro di beni sono stati sequestrati preventivamente a otto imprenditori agricoli dalla Guardia di Finanza di Catania per truffa ai danni dell'Unione Europea. Le indagini delegate dalla procura di Caltagirone hanno consentito di scoprire che quattro società cooperative e tre ditte individuali utilizzando false attestazioni per comprovarne l'uso in affitto o incomodato di fondi rustici sono riuscite a conseguire per cinque anni consecutivi i sussidi erogati dall'Unione Europea nel settore della politica agricola comune senza averne alcun reale titolo. I terreni riportati nei contratti falsi sono risultati intestati a ignari proprietari, alcuni dei quali deceduti, nonché a enti pubblici, quali comuni delle province del Catanese, del Tapanese, del Messinese e anche della regione siciliana, che mai ne aveva concesso l'utilizzo o lo sfruttamento. Grazie all'operazione Camaleonte i carabinieri hanno arrestato tre persone e altre dieci persone sono indagate per maltrattamenti su minori migranti, truffa e falso in atto pubblico. I gestori delle cooperative ottenevano soldi senza però dare un servizio, anzi maltrattando e denigrando i giovani, apostrofandoli come porci. Corruzione, maltrattamenti su minori e falso in atto pubblico. Queste le accuse mosse nei confronti dell'ex candidato sindaco di Mascali, Giovanni Pellizzeri, del figlio Mario e di Isabella Vitale. Grazie all'operazione Camaleonte i carabinieri hanno evidenziato come i reati sono stati perpetuati nell'ambito della gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti sul territorio italiano in occasione degli sbarchi. Gli stessi minori venivano affidati sulla base di accordi corruttivi intervenuti con un dipendente del comune di Catania alle comunità gestite dagli indagati, strutture fatiscenti e prive delle necessarie autorizzazioni. Tutto inizia nel 2014 quando vennero avviati accertamenti sulle comunità di accoglienza per minori gestite dalla cooperativa Speranza. Nella stessa comunità la Ollus Save the Children aveva segnalato gravi negligenze della cooperativa nella gestione dei minori. In alcune conversazioni Pellizzeri, Giovanni e Vitale Isabella definivano gli ospiti della struttura Zingari e Porci e in circostanze nelle quali occorreva l'acquisto di alcuni farmaci commentavano i farmaci generici sì ma no questi qua assolutamente no per me può buttare sangue. Si è accertato inoltre delle gravissime carenze sanitarie e strutturali. In una situazione emergenziale non bastando i centri di accoglienza certificati dagli organi dello Stato, dalle prefetture, si deve far ricorso a altri centri accreditati dai comuni e non sempre questi centri rispondono ai requisiti. Abbiamo delle intercettazioni sconvolgenti in cui vengono definiti questi ragazzi accolti come dei porci, che come tali devono essere trattati. L'acquazzone che si è battuto su in provincia di Ragusa domenica scorsa ha fatto esplodere un caso politico a Vittoria. Già c'è chi chiede le dimissioni del sindaco, chi etichetta l'amministrazione come incompetente, ignorante e in mala fede, mentre il primo cittadino, Giovanni Moscato, ha spiegato le cause degli disagi puttando il dito contro i temi troppo lunghi della burocrazia regionale. L'acquazzone che si è abbattuto domenica mattina in provincia di Ragusa ha procurato disagi, soprattutto nel versante vittoriese dove è scoppiato un vero e proprio caso politico, tra rimpalli di responsabilità tra vecchie e nuove amministrazioni, fino alla richiesta di dimissioni del sindaco Giovanni Moscato da parte del più vivace consigliere d'opposizione, Giuseppe Nicastro. All'acquerella ha preso parte anche il già sindaco di Vittoria, uomo politico di lungo corso, Francesco Aiello, che ha governato per dieci anni, dal 1995 al 2005, è eletto tre volte, si è candidato cinque volte e conosce molto bene la città di Vittoria come gli angoli di casa sua. Ha accusato l'amministrazione Moscato sugli sversamenti a mare dalla rete fognaria, chiamando in causa anche capiterranea di Porto, provincia di Arparagusa. Secondo l'onorevole Aiello, i lavori che in fretta e in furia stanno facendo attorno al depuratore di scoglitti, gli impianti di pretrattamento delle acque refle, rappresentano la prova più eclatante che la cosa da fare era e del ripristino del troppo pieno, che hanno chiuso per incompetenze, ignoranze e malafede. Ora sono con le spalle al muro, scrive ancora Aiello, ma continuano a bleffare. L'ex sindaco ha denunciato una pendenza sbagliata sul sistema fognario e l'assenza di manutenzione degli impianti e dei pozzetti di via Pescara scoglitti. E mentre l'ex bacchetta d'allievo per non aver fatto i compiti a casa, Moscato ha ricordato che nel 2015 l'amministrazione Nicosia è stata commissariata dall'assessore regionale Vania Contrafatto, che non ha però ancora consegnato alcun progetto sul depuratore sequestrato. È un problema storico che ci portiamo. A questo problema è stata aggiunta nel 2014 la chiusura della guida idraulica per chiaramente fare la cortesia a qualche imprenditore. Ci siamo sentiti costantemente con l'ARPA e con gli altri uffici competenti, quindi non c'è alcun problema per i nostri bagnanti, per i nostri turisti. Lì occorre il nuovo impianto di depurazione e i cittadini devono sapere che già da tanti anni noi abbiamo avuto finanziato un progetto per l'impianto di depurazione che è poi diventato un impianto di rilancio delle acque nere da scoglitti a Vittoria, al depuratore a Vittoria, per quasi 8 milioni di euro. Un finanziamento del Cipe, un finanziamento che è finito poi nel patto per il Sud, ma purtroppo la vecchia amministrazione non presentò mai i progetti e come tanti altri comuni in Italia siamo stati commissariati. Il Governo nazionale ha nominato quale commissario ad acta l'assessore regionale contraffatto che da oltre due anni dovrebbe fare partire i lavori. Facciamo un appello all'assessore regionale che dopo due anni ci porti questi benedetti progetti, faccio un appello al Partito Democratico che è stato il primo con i suoi consiglieri comunali a fare sciacallaggio ieri dopo che prima hanno chiuso la guida idraulica e ancora oggi i loro assessori devono presentare i progetti. E sulla questione dello sversamento dell'Iquamia a Scoglitti, il Movimento Territorio e il Gruppo Politico Azione Sociale chiedono delle delucidazioni in una nota al Sindaco Giovanni Moscato e all'amministrazione. In particolare il Movimento chiede come mai nell'immediata manutenzione della rete fognaria è avvenuta solo adesso e non nei primi cento giorni della sua carica e chiedono anche il motivo per cui è stato chiuso nel 2014 lo scolmatore. Inoltre il Movimento chiede se subito dopo lo sversamento delle acque in mare sia stata effettuata una curata e immediata bonifica delle spiagge al fine di salvaguardare la salute di ogni cittadino che frequenta quei luoghi. E adesso cambiamo argomento perché a Catania ieri per partecipare a un convegno la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha giudicato buona la sanità siciliana anche se molte cose si devono fare, tra cui l'assunzione di nuovi medici. L'esponente del governo Gentiloni ha poi parlato dell'aggressione nel nosocomi catanese definendo questi atti inaccettabili. La salute c'è, è la definizione che usa la Ministra Lorenzin ieri pomeriggio a Catania per esprimere per l'appunto lo stato di salute della sanità siciliana anche se la rappresentante del governo Gentiloni auspica che questa salute possa migliorare l'anno prossimo. Come? La nuova rete ospedaliere ha detto applica finalmente un approccio molto innovativo e moderno per la Sicilia. Questo permetterà e permette già adesso di realizzare con i nuovi fabbisogni previsti nel modello che ha realizzato il Ministero dell'Economia insieme al Ministero della Salute e alle regioni anche quasi 3.000 assunzioni con i concorsi e fatte in base a fabbisogni specifici. E a proposito di ospedali, una riflessione viene fatta anche sul nascente San Marco. È un ospedale che nella sua storia sarà destinato anche ad assorbire molto, diciamo, non solo dell'eccellenza ma dell'acuzia della città. È un ospedale che si presenta ipertecnologico e quindi insomma crediamo che tutto andrà bene. Altro argomento caldo per Catania è quello delle ripetute aggressioni ai medici nei vari ospedali etnei, episodi che la Lorenzina definisce cose inammissibili e inaccettabili, che denotano tra l'altro una perdita che noi dobbiamo assolutamente recuperare del senso delle istituzioni sanitarie. I medici non possono essere aggrediti perché effettuano le terapie. Queste sono cose che avvengono in paesi del terzo mondo. In me c'è la piena solidarietà da parte del Ministero e il mio come Ministro ma soprattutto noi dobbiamo molto lavorare sulla ripresa di una centralità dell'istituzione sanitaria. E a proposito dei vaccini, il Ministro ricordo come riprenderà in Senato l'esame e il Ministro stesso spera di concludere questa settimana portando un ottimo risultato per l'Italia. Abbiamo visto anche questi giorni che l'epidemia è purtroppo molto importante nel nostro paese e succedono anche cose strane come quella del Settebello. Faccio anche un augurio di buona guarigione ai nostri atleti e spero che anche senza di loro la nostra squadra possa farsi valere. Senza dato il nuovo commissario dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa. Si tratta di Giovanni Rovito, funzionario regionale componente dell'ufficio di gabinetto dell'assessore alle infrastrutture. Il commissario ha esaminato la situazione finanziaria dell'ente e ha evidenziato un'ampia morosità degli inquilini e delle occupazioni abusive incentivando il recupero delle morosità anche mediante rateizzazioni e lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente. Attenzionata anche la questione degli immobili di Pozzallo che presentano problemi strutturali e per i quali è stata istituita una task force con l'assessorato alle infrastrutture. Il commissario ha infatti già formalizzato la richiesta di un finanziamento straordinario per reperire le risorse per gli interventi. E abusivismo commerciale e inquinamento acustico divulgato al retro dei controlli da parte della Polizia Municipale di Vittoria. Venti gli operatori irregolari sanzionati per l'occupazione di suolo pubblico. In campo pubblicitario sanzioni per l'esposizione di cartelli per una superficie superiore a quella riportata nell'autorizzazione. Nel settore dell'inquinamento acustico sono stati effettuati in sinergia con la personale dell'ARPA controlli con l'uso di un fonometro per accertare il rispetto dei decibel. E adesso ci spostiamo a Ragusa. Spiazzature in ogni genere ed erbacce incolte. Si presentano così le aiuole di Piazza del Popolo ai turisti e ai cittadini. Una situazione di degrado denunciata anche dal movimento territorio. Cosa potrei pensare? Mi addolora tantissimo. Il degrado di Piazza del Popolo è bene visibile agli occhi dei turisti ma anche dei cittadini. Le aiuole si presentano piene di erbacce e di rifiuti di ogni genere. Situazione sicuramente aggravata dal gesto incivile di qualcuno ma l'amministrazione è assente. Molti in abbandono, andrebbero curati di più, però l'amministrazione mi sa che sente poco. Secondo lei cosa andrebbe fatto? Non si può ottenere un luogo pubblico in queste condizioni? No, ci vorrebbe più manutenzione, più cura, anche perché una città bella come Ragusa non può essere tenuta così. È inutile commentare, guardi un po' le stesse e vedo. Questo è proprio in degrado, insomma che c'è tanta pulizia. Secondo lei perché l'amministrazione da questo punto di vista non ci sente? C'è brutte domande e poi devo rispondere. Una situazione che non è sfuggita all'occhio attento di due esponenti del Movimento Territorio Ragusa, Emanuele Di Stefano e Giuseppe Occhipinti. Entrambi hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni di uno dei siti più frequentati del comune capoluogo. La denuncia nella speranza di invertire la tendenza. I problemi sono la mancanza di scerbatura, a cui si aggiungono l'abbandono dei rifiuti in maniera indiscriminata. Insomma, un vero e proprio disastro che per i due esponenti politici ha una sola paternità, la giunta pentastellata. Un disastro a cui non ci abitueremo mai, affermano, per due motivi. Il primo è che Piazza del Popolo è una zona di passaggio di notevole transito durante tutte le ore del giorno. Il secondo è che con la precedente amministrazione non si era mai arrivati sino a questo stato di cose. L'assessore alle manutenzioni del comune di Scicli, Lino Carpino, risponde in merito allo stato disastroso di alcune strade, la presenza di blatte, argomenti al centro delle numerose segnalazioni dei residenti ai quali avevamo dato voce in un precedente servizio. I lavori di ripristino del manto stradale a Scicli sono già iniziati e ci saranno altre due fasi di intervento. E questa è la replica dell'assessore alle manutenzioni, Lino Carpino, contattato da noi stamattina telefonicamente in merito alle numerose segnalazioni dei residenti ai quali avevamo dato voce nei giorni scorsi. In particolare le lamentele dei cittadini evidenziavano lo stato disastroso in cui versano le strade di Scicli e la massiccia presenza di blatte. Su rifacimento del manto stradale l'assessore intenderà assicurare i cittadini dichiarando che entro la fine dell'estate si partirà con la seconda fase di interventi che interesserà la centrale Via Mentana e Corso Garibaldi, per l'appunto le due strade Colabrodo sulle quali c'erano giunte numerose segnalazioni. La terza fase di lavori consisterà in un bando con ribassi d'asta che servirà a ripristinare tutte le strade secondarie del centro città, quelle che confluiscono e che dipartono dalle arterie centrali. Complessivamente il programma di ripristino del manto stradale, continua l'assessore, che va ad aggiungersi anche al ripristino della rete idrica in alcuni punti, è un programma molto intenso di interventi il cui obiettivo è quello di assicurare la percorribilità e la sicurezza di più arterie possibili, sia nel centro di Scicli che nelle borgate, conclude l'assessore. Invece sulla presenza di blatte, lamentata dai residenti dei quartieri San Giuseppe e Iungi, Carpino dichiara, sono stati già acquistati i prodotti per procedere alle deblatizzazioni e sono in programma due interventi. Sulle tempistiche di intervento l'assessore non ha indicato nessuna data ben precisa, tuttavia pare che le due fasi di deblatizzazione, che seguiranno l'ultima disinfestazione avvenuta nel maggio scorso, saranno effettuati non appena si definirà con gli interventi stradali per evitare che l'uno annulli l'altro, come ha dichiarato Carpino. Inoltre l'amministrazione esprime la propria soddisfazione per un servizio integrativo di conferimento rifiuti creato ad hoc per i cittadini e che verrà introdotto prossimamente dal centro abitato fino al litorale di competenza del comune ciclitano, che potrebbe contribuire a migliorare il servizio di gestione della raccolta rifiuti e indirettamente a risolvere il problema delle discariche abusive ormai consolidate in alcuni punti. È stata approvata ieri dalla Giunta Municipale di Modica la maxirrateizzazione a favore dei titolari di imprese insistenti nell'area artigionale di Contrada Michelica per il pagamento dei canoni dovuti per la concessione del diritto di superficie. Entro il 30 settembre 2017 sarà possibile presentare presso l'ufficio Tributi la richiesta di ammissione alla rateizzazione che potrà avvenire per un massimo di 72 rate con importi che, in base all'Ise, veriano dai 50 ai 100 euro mensili. Restiamo a Modica perché stanno avanzando i lavori in entrambi i sensi di marcia per la rotatoria di via Dente Crocicchia a Modica. In quanto si vince al termine di un sopralluogo del sindaco Ignazio Abate che dichiara a breve finirà la fase meno invasiva per dare inizio a quella che è per forza di cose e causerà qualche disagio alla circolazione i lavori si sposteranno nella zona dello svincolo di Piano Ceci. Insieme al comandante della pulizia locale, responsabile della pulizia stradale e tecnici comunali continua Abate, valuteremo come convogliare al meglio nella maniera meno invasiva il traffico veicolare nelle prossime settimane quando uomini e bezzi pesanti si trasferiranno sulle rampe d'accesso di Piano Ceci andando a modificare completamente la rete viaria e lo svincolo esistente. E come in estate si ripropone il problema delle spiagge con le barriere architettoniche che di fatto impediscono alle persone con disabilità di potervi accedere. L'ANFAS di Modica scrive una lettera e lancia due proposte affinché le spiagge del nostro litorale possano accogliere i disabili. Sull'argomento nei giorni scorsi era intervenuto anche il consigliere comunale di Modica Tato Cavallino. Ogni anno per chi ha una disabilità le vacanze non sono sempre quell'oasi di relax tanto attese e desiderata. Il problema dell'inaccessibilità delle spiagge ai disabili torna puntuale ogni estate. E l'ANFAS di Modica rimarcare il problema in una nota stampa parlando delle spiagge del litorale Ibleo in alcune delle quali anche per quest'anno sventola la bandiera blu ma di servizi per i disabili non si intravede nulla all'orizzonte. La persona con disabilità, scrive l'ANFAS, è ancora molto limitata nello scegliere i luoghi in cui andare in vacanza. I nostri litorali sono accessibili solo in parte, continua l'associazione. Una spiaggia con bandiera blu deve essere dotata di accesso e servizi per chi ha una disabilità. Peccato però che una sedia job serve a poco se non si è avuto l'accortezza di far arrivare la scivola sino alla battigia, se il legno della scivola è fradicio, se la scivola passa attraverso le dune e quindi è di fatto impercorribile. Le spiagge accessibili, continua l'associazione, non sono per nulla pubblicizzate e solo dopo numerose telefonate abbiamo saputo dove recarci. L'Associazione Nazionale di Famiglie con Disabilità dunque descrive un quadro negativo di tutta la vicenda e punta l'attenzione anche sui mezzi di trasporto. Avere un autobus e mezzi pubblici attrezzati per disabili che coprono le tratte da e per le principali attività balneali sarebbe una vera e propria utopia. L'ANFAS dunque formula due proposte, la prima rivolta ai consorsi turistici affinché coinvolgano le associazioni di persone con disabilità in una promozione e crescita del territorio anche dal punto di vista etico e sociale. L'altra proposta invece viene rivolta ai candidati delle prossime elezioni regionali affinché venga realizzato anche in Sicilia un'accessibilità non più a macchia di leopardo ma a macchia d'olio così come la Regione Puglia che ha stabilito per tutti gli stabilimenti balneari l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione le sedie job e a garantire l'accesso all'arenile a chi abbia difficoltà motorie. Già la scorsa settimana sui problemi legati ai disabili era intervenuto il consigliere comunale a Modica Tato Cavallino che aveva inoltrato una proposta al sindaco Ignazio Abate. Cavallino ha parlato nella sua nota stampa delle spiagge di Marina di Modica e Maganuco secondo cui non sono ancora dotate di un'area addemaniale che consenta alle persone con disabilità di potersi muovere o fare il bagno. Bisogna immediatamente sistemare le passerelle scrive il consigliere allungandole fino al mare oltre ad un'area di ristoro attrezzata con lettini rialzati, ombrelloni e sedie per poter accedere al mare. Diffondiamo la cultura del turismo accessibile conclude Cavallino affinché tutti possano vivere una vacanza in piena autonomia. E da Comisu cresce l'attesa per il concerto della banda musicale dei Carabinieri che si terrà il 3 agosto in Piazza Fonte Diana. Oggi la presentazione dell'eccezionale evento nell'Aula Consigliare del Comune e alla presenza tra gli altri del maestro Massimo Martinelli. Nei quasi 200 anni di storia, dal primo nucleo nel 1820 di Otto Trombetti agli attuali 102 musicisti che ne fanno il corpo bandistico dal più ampio repertorio, la banda musicale dei Carabinieri si è fatta conoscere a mare in Italia e nel mondo per la qualità delle sue esecuzioni e per il fascino dei suoi orchestrali. Il concerto che si terrà a Comiso giovedì 3 agosto si preannuncia un grande evento. La chermessa è stata presentata stamane nell'Aula Consigliare di Palazzo di Città alla presenza tra gli altri del maestro Massimo Martinelli e del comandante provinciale dei Carabinieri Federico Reginato che si è speso per organizzare l'evento nella città casmenea. Effettivamente è una bellissima soddisfazione poter ritornare in questo luogo che ci ha colto l'altra volta benissimo e siamo convinti che sia a Ragusa, il ritorno a Ragusa che la presenza della banda in questa bellissima città che è Comiso sarà per noi un motivo di grande soddisfazione. Piazza Fonte Diana è questa la location che è stata scelta per il grande evento, il concerto del corpo bandistico della banda dei Carabinieri, ultima tappa prima di partire per Mosca a settembre. Siamo reduci nel 2016 da una torne negli Stati Uniti in Russia e torneremo anche quest'anno per il decimo anniversario della Spaskaya Tower sulla piazza rossa di Mosca. La scaletta prevede un repertorio classico ma con qualche novità. Pensavamo appunto di fare oltre i brani del nostro repertorio, quindi che spaziano da verdi, anche il repertorio più moderno come Agno Moricone, quindi brani di musica da film, eravamo orientati anche per fare alcune cose che proprio sono caratteristiche della Sicilia come il commento cinematografico al film Baria che ha scritto Agno Moricone, del quale noi abbiamo una trascrizione voluta proprio dal maestro Moricone. E poi ecco ci saranno alcune sorprese, specialmente qui che abbiamo preparato per la città di Comiso nelle quali sfrutteremo un po' le bellezze naturali del posto. Orgoglio e gioia, queste le parole del sindaco nel commentare il grande evento. Comiso ricomincia ad essere al centro delle attività e delle attenzioni culturali, così come era un tempo e così come avevamo promesso. L'azienda sanitaria di Ragusa ha già predisposto l'apertura di quattro ambulatori per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionali in condizioni di vulnerabilità psicosanitaria. Le sedi sono dislocate tra Modica, Pozzallo, Ragusa e Vittoria. Il progetto a cui l'ASP di Ragusa partecipa come partner, insieme alle aziende sanitarie della Sicilia, è volto a favorire l'inserimento dei richiedenti e titolari di protezione internazionale affetti da gravi patologie psichiatriche nelle strutture aziendali di salute mentale, garantendo anche la formazione degli operatori coinvolti al fine di garantire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di lunga durata. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro buona serata.